Nella sala conferenza del comune di Battipaglia si è svolta questa mattina la tanto attesa conferenza stampa del consigliere Pino Bovi del Movimento Etica per il Buon Governo, gruppo consigliare Concecilia. Nel corso dell'evento rivolto ai mass media ha comunicato di essere fuori dalla maggioranza francese, puntando il dito sulla nomina non condivisa della scelta ad assessore di Davide Bruno. Il mio modo di interpretare è condiviso da tante persone del Movimento e tante persone della società civile, elettori, amici, persone che seguono la fase amministrativa e politica di Battipaglia. La scelta di un assessore senza che questo sia espressione di una parte politica secondo me contraddice i principi con cui ci siamo presentati e soprattutto li contraddice se questa persona, che sarà sicuramente validissima, la faccenda naturalmente non è sul piano personale, se questa persona ha cominciato la partita, cominciata nel 2016 e che finisce nel 2021, ha cominciato quella partita con una maglietta diversa da quella che adesso viene ad indossare. Io ho cercato di evitare questo suggerendo... Come si determinerà il Consiglio Comunale? Esco dalla maggioranza. Io avevo anche suggerito che venisse cercato, trovato un accordo politico con il PD, in modo che il PD potesse nominare la stessa persona, ma come frutto di un accordo politico, un accordo di programma, e invece non è stato possibile, il PD non è d'accordo, non so Cecilia se e come abbia provato ad aprire questo confronto, il fatto è che noi oggi ci troviamo con un assessore che, con un'operazione che una volta si chiamava trasformismo, toglie la maglietta con la quale ha cominciato la partita e viene a giocare con noi. Io non condivido questa scelta, siccome ho raccontato altre cose, ho chiesto il voto su questo e su altro, non potendo garantire il rispetto di questo impegno, esco dalla maggioranza. Quando il vostro assessore quindi Pino Bovi resterà l'opposizione? No, Pino Bovi prende una posizione e apre un dibattito, un confronto, pone un problema, poi vediamo come... Può darsi pure che il problema non si affronti proprio. La maggioranza c'è, a prescindere da Pino Bovi, l'amministrazione c'è e finisce là. Quanto tempo può durare questa amministrazione? Credo altri 30 mesi. Finisce il 2021. Quindi la sua scelta di andare all'opposizione non intaccherà il proseguo dell'amministrazione? Non dipende da me, la maggioranza c'è, è ampia, quindi manettando meno io mi pongo il problema di non fare arrivare a fine mandato questa maggioranza, è assolutamente fuori dai miei obiettivi. Cioè, ecco, diciamolo in maniera molto chiara, se domani venissero 12 persone, ognuno con le dimissioni firmate, mi portano il foglio con lo spazio per la mia firma, 13 firme, si va dal notaio e si fa cadere questa amministrazione, io assolutamente non firmo. Io ho dato il mio piccolo contributo per far diventare Cecilia sindaco. Non viene mantenuto quello che insieme, io, lei e tanti altri, abbiamo promesso. Per me il problema è tale che io debba uscire dalla maggioranza, che poi l'amministrazione continui e faccia cose buone per Battivaglia. Io da cittadino sono ben contento. Io da cittadino sono ben contento. Io da cittadino sono ben contento.